Ragazzi, salve! Guardate che dolci che ho! Scegliete! Uh, sì! Penso di prendere un... Sì! Ho un chino di sorpresa! Uh, sì! Oh, mio Dio! Guarda! C'è un chino di rosa! Wow, vediamo! Thank you! Awesome! Buona! Uh, che bello! Siamo di signorosa! Vediamo! Non farlo! Ecco! Sei una sfida, ma non è colpa mia! Uh, che bellezza! Ho sempre voluto partecipare alla sfida rosa! Mi chiedo cosa ci sia qui! Fantastico! È duro questo! Ma perché non riesco a mordere? No, ma perché? Ma... Oh, però! Ho una idea! La sega mi aiuterà! Che ne dite di... Sì, ti voglio dividere? No! Questo è il mio! Oh, vedete! E a dire il vero, io ho ricevuto qualcosa di buono! Adesso è il pranzo! Adesso è il pranzo! Che bontà! Che bontà! No, aspetta! Pepperoncino? No! Sono in fiamma! No! No, 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 no! No! Dobbiamo fare qualcosa facilmente! Credo io avrò nessun d'ora! Ma... 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 Ecco... Non sapevo in chi fare il papiero fosse così traumatico! Ecco... Sì, ma... Del mio oro sono rimasta un po' sangra! Sì, ma... Scusa... Vabbè! Vuoi un po' di schiuma? Cosa ci aspetta questa volta? È ora di scoprirlo! No! Oggi ho limoni! E io invece sono fortunata al cioccolato! Questo è il tipo che tutti amano! Sera dolce e molto gustosa! Ma il limone non è rosa! E la sfidaccia è rosa! Non ringraziarvi! E l'unica cosa rosa è quella che c'è all'interno! Mangia! No! È ospra! Ma ce la farò! Ce la farò! Ancora un po'! Non va affatto vede! Cos'è con la faccia? Ah, dovreste vedersi! È arrivato il momento di mangiare un cioccolato! Wow! Quanto è delizioso! Ma è un cioccolato alla fragola! Voglio mangiare con un cucchiaio! No! Anche se qui c'è buono cucchiaio più grande! Ecco! Di cosa ho bisogno! Posso assaggiare anch'io? Cosa? No! È mio! Ed è geniale! Per mezzicarmi... Ecco cosa farò! Trasformerò il mio limone in un lecca-lecca! Ehi! Ah, mi devo scambiare? Io ti do questo lecca-lecca e tu il cioccolato! Sì! Ah, che bello! Vediamo com'è questo lecca-lecca! Ma non è buono! Sì, è un limone! Ma non ci vergogna! Ecco! Ma cosa hai fatto? Sopra sfodere! Per fortuna, guarda, sembra l'ombrello! E io sono ricoperta di cioccolato! È delizioso, ma non è bello! Dai, su! Un, due, tre! E vai! Ho vinto! Ho vinto di nuovo! Perché sono tanta rosa! Con un tubo a foro degli occhiali! Vediamolo! Com'è? Ma posso, per almeno, un sforzo? Per fortuna, no! Ma perché tu hai delle cose deliziose? Io questa mossa, che ridua! Forse però andrà così male! Forse questo gran che mi interaura o bere un po' di fanta! No, no! Vabbè! Perché non scorre? Oh, cosa? Come hai usato? Oh, no! È scandalosa! Ora devi mangiare il tuo gran che disgustoso! Ma forse è una cosa cazziva! Ah, che male! Lasciami stare! Vem luce il mio poveronazio! Guarda! Che ridere! Assomiglia di un clown! Credo di sapere cosa... Devo fare... Per inzermare cose grandi... Basta! Farlo bollire! Ora questa sfida sta per trasformare... Una sfida per cuoche! Vediamo com'è! La raccetta è molto semplice! Bisogna averci il gran che dell'acqua calda! Ora aspettiamo un po'... Ed ecco fatta! Guarda come è rosso! Così è diventato commestibile! Non solo commestibile ma anche molto buono! Questo è il tipo di gran che non mi dispiace affatto mangiare perché è davvero buono! Ti dispiace se apri io per prima? No, vabbè vai! Uh, che bello! Un intero distributore automatico di gommi da mazzicare rosa! Questo è sì che è fortuna! Ma come si fa? Ma... Non so cosa! Dai! Basta inserire una moneta! Una moneta! Ma ho solo? Spazzatura! Vabbè posso comprare una gomma da mazzicare senza moneta! Vieni fuori! Dai! Uh, che fortunato che sono! Ho un lecca lecca gigante! Solo che non è fatta dolce! È di plastica! Ma cosa c'è dentro? Wow! C'è un sacco di lecca lecca qui dentro! E sono due miei! Ma... So cosa devo fare prima! Ecco! Via! Ma... Cosa facendo? Ma io come farò a mangiare senza le monete? Voglio mangiare tutte le cramelle una volta solo! Oh oh! Sono veramente grandi! Cosa devo fare? Ah! Finalmente! Ora hai la bocca benedic-lecca! Non avrei mai potuto sognare una cosa del genere! What? Strana! Ehi! È tutto? Ma perché ci sono queste... Manete? Ma forse per me! O meglio! Per la mia macchina delle gomme! Ok! Aspetta! Però devi condividere con me! Facciamo una prova! Ok! Finalmente le monete! Quindi le cramelle sono mie! Quanto tempo ho aspettato per questa delizia! Quante gomme ci sono qui dentro! Ma sono mie! Cosa? È una seconda! Pugiarla! Pugiarla! Dai, su! Guarda che bolla che sto per fare! È davvero grande! Non so cosa devo fare! Pugiarla! No! Sono incoverbi! Di questo che penso! Iscriviti a Barada per non perdere le stesse sfide deliziosi e buone! Qui ci si diverte sempre! E tanto! Ciao ciao!